ben ritrovati sul canale di strega gremori quest'oggi un breve video che ho promesso tante volte di girare però per mancanza di tempo ultimamente ho anche abbandonato un po il canale youtube quindi era un mio impegno oggi girare questo video proprio perché in molti di voi mi hanno chiesto di parlare dei rituali di protezione cioè come mi proteggo durante un rituale magico soprattutto se è un rituale di attacco un rituale quello che voi definite nero onde evitare possibili colpi di ritorno proprio dell'argomento colpi di ritorno ne abbiamo ampiamente parlato anche in altri video chi non li ha visionati invito a farlo quindi non c'è bisogno di ritornare oggi sull'argomento colpi di ritorno non c'è bisogno neanche di ritornare sull'argomento magia colori in magia perché anche di questo abbiamo discusso però per semplicità diremo che durante alcuni tipi di rituale quelli cosiddetti di magia nera magia dove noi ci rivolgiamo a delle entità usiamo delle protezioni queste protezioni sono di diverso tipo non c'è bisogno utilizzarle tutte però magari alcune sì soprattutto per chi comincia a praticare e non ha delle protezioni personali delle protezioni da mago o da strega che dir si voglia quindi cerchiamo di proteggerci con situazioni che andiamo noi a creare quali sono l'altare quando noi prepariamo l'altare dobbiamo fare una preparazione particolare in che cosa consiste fumigare bene la stanza quindi con ho fatto anche un video sugli smooth stick di rosmarino di salvia bianca di alloro possiamo creare noi in casa i nostri erbasante questo erbasante per purificare l'ambiente quindi possiamo anche crearli noi e non andare a spendere dei soldi per comprarli e fumigliamo l'ambiente lo stesso piano diciamo di lavoro dove noi andremo a operare deve essere purificato come lo facciamo oltre con gli smuggi con le fumigazioni con gli incensi per esempio l'incenso di palo santo l'incenso di ruta l'incenso di sangue di drago possiamo purificare anche con l'agua florida quindi pulire proprio pulire il tavolo di lavoro con l'agua florida fare le giuste fumigazioni e poi fare anche dei bagni personali quindi prima di iniziare il rituale fare dei bagni o delle docce di purificazione sempre con sale grosso esorcizzato salvia preparare proprio dei decotti con la lavanda la salvia e lavarci con quelli prima del rituale questa questa purificazione serve a proteggerci è già un primo passo verso la protezione come altro ci proteggiamo ci proteggiamo per esempio mettendo nell'altare bruciando dell'incenso di franchincenso di mirra di olibano incenso di olibano di chiesa come ho detto prima ci sono gli incensi di purificazione come il palo santo la ruta eccetera eccetera ma ci sono anche quelli di protezione come l'olibano il franchincenso o la mirra perché dobbiamo proteggerci perché dobbiamo fare queste fumigazioni questi bagni di purificazione usare questi incensi di protezione perché quando noi diciamo invochiamo chiamiamo dell'entità e quindi diciamo chiediamo aiuto a degli egregor noi dobbiamo proteggerci in che senso non tutte le entità sono molto benevole non tutte le entità ci possono rispondere allo stesso modo soprattutto se con quell'entità noi non abbiamo molta familiarità dobbiamo entrare ancora in sintonia con quell'entità quindi cerchiamo di proteggerci questo non vuol dire vedere l'entità come un nemico perché noi stiamo chiedendo il loro aiuto l'unica cosa che dobbiamo adottare durante un rituale è la prudenza e quindi facciamo di tutto per proteggerci ma non perché quell'entità è il nostro nemico ma perché nel momento in cui andiamo ad invocare l'aiuto per esempio anche di un demone che ripeto non sono entità cristianamente definite cattive perverse maligne e quindi che ci fanno del male anche perché non saremmo matti a chiamarle voi sapete qual è il mio concetto sui demoni però può arrivare il demone sbagliato può arrivare un'entità che non è demoniaca ma che è un'entità del basso astrale quindi un'entità negativa un'entità anche ignorante e può danneggiarci quindi per evitare che succeda un incidente del genere quindi si presenti non quell'entità che stiamo chiamando ma si presenta un'entità diversa del basso astrale e quindi un'entità anche ignorante che decodifica magari anche male quello che noi stiamo chiedendo noi ci proteggiamo i modi per proteggerci sono tanti a partire da quelle che vi ho appena elencato di purificazione personale e del piano di lavoro del nostro definiamolo altare quindi ricapitolando incenso di ruta palo santo agua fiorida bagni di fumigazione fumigazione con la salvia eccetera poi incensi di protezione quindi noi chiediamo all'elemento aria di proteggerci quindi incenso di franchincenso libano di chiesa drago rosso mirra volevo dire non drago rosso sangue di drago questi sono degli incensi di protezione andando avanti cosa possiamo mettere all'interno del nostro altare per proteggerci per esempio le candele in cera d'api quelle nere sono adatte per la purificazione per la protezione che vuol dire se noi stiamo facendo un lavoro di attacco fra il lavoro quindi quello che abbiamo qui davanti e noi poniamo una candela in cera d'api nera quella è la barriera fra noi e il lavoro di attacco che stiamo facendo quindi assorbe le eventuali negatività che si stanno creando intorno a noi la stessa cosa la fa un uovo io non l'ho trovato bianco però vi consiglio di usare l'uovo bianco se non lo avete in ogni caso potete anche utilizzare un uovo un normalissimo uovo di qualsiasi colore se lo trovate bianco meglio quindi mettere anche l'uovo fra voi e il vostro lavoro di attacco la candela in cera d'api nera l'uovo ma continuiamo continuiamo anche con l'elemento terra quindi sale esorcizzato io vi consiglio di non usare il semplice sale grosso quello da cucina ma di esorcizzarlo nei miei video e troverete dei video del tutorial dove insegno proprio a esorcizzare il sale a benedire l'acqua a preparare l'olio santo e anche addirittura benedire esorcizzare la cera la cera per le candele con le quali andiamo a lavorare perché tutte le candele che io utilizzo per i miei rituali sono comunque prima esorcizzate quindi consiglio vivamente di utilizzare sale esorcizzato è facilissimo da esorcizzare non è niente di difficile e quindi lo potete mettere anche all'interno di sacchettini e i sacchettini metterli proprio nel vostro altare l'elemento terra lo troviamo anche nelle pietre di protezione le pietre di protezione sono per esempio l'ossidiana potete usare anche dei quarzi o o anche la tormalite avere queste pietre di protezione sia appoggiate sull'altare che anche addosso come del dei veri e propri gioielli per esempio un'ossidiana come collana o bracciale sono delle importanti protezioni naturalmente non dobbiamo andare in un negozio che vende pietre comprare una pietra e metterla lì l'ossidiana va purificata e caricata per l'intento che noi ci proponiamo quindi proteggerci durante un rituale d'attacco dopodiché magari quella pietra quel quarzo quella tormalina quell'ossidiana la utilizziamo solo ed esclusivamente per quell'intento proprio per proteggerci durante i rituali d'attacco un'altra cosa che vi posso consigliare durante questi tipi di rituale è quello di tenere con voi degli amuleti per esempio questo è uno degli amuleti che uso io ed è un amuleto come vedete della cultura in della magia e della cultura della religione induista potete usare questo tipo di amuleto quando lavorate con la magia induista oppure semplicemente perché siete devoti a questo particolare tipo di di fede e potete utilizzare questi amuleti per se stiamo lavorando non con la magia induista ma per esempio con gli arcangeli anche gli arcangeli non sono sempre disponibili sempre buoni anche gli arcangeli hanno diritto perché molti li hanno un po sottovalutati quindi lavorare per esempio con un arcangelo tutto il fila liscia come l'olio tanto quello che chiede all'arcangelo all'arcangelo l'arcangelo lo esaudisce diciamo così no non è così quindi anche l'arcangelo può voltarci le spalle perché ritiene quel tipo di favore che noi stiamo chiedendo a lui non lo dovevamo chiedere e quindi ci si può ritorcere contro anche per esempio chiedere l'amore di un uomo magari quell'arcangelo decide di non darci l'amore di quell'uomo e possiamo avere un piccolino piccolo colpo di ritorno quindi mentre stiamo lavorando con un egregor cristiano possiamo mettere nel nostro altare anche un rosario se stiamo lavorando con delle entità buddiste tibetane induiste possiamo utilizzare mettere o indossarlo o appoggiarlo sull'altare un mala il mala è quello che per i cristiani è il rosario quindi il mala si utilizza durante l'ascolto dei mantra mantra tibetani mantra buddisti mantra induisti quindi se stiamo lavorando con una di questa entità possiamo usare tranquillamente il mala sempre purificato e caricato per l'intento oppure come ho detto prima se stiamo lavorando con un egregor cristiano possiamo usare anche un rosario cosa ci protegge ci protegge un calice d'acqua benedetta appoggiata sull'altare se non volete crearla voi l'acqua benedetta quindi benedirla con un rituale potete andare a chiederla in chiesa non si va a rubare dall'acqua santiera si va a chiedere al sacerdote per favore mi può benedire un po d'acqua la vorrei tenere in casa non gentile sacerdote siccome devo fare una fattura stanotte contro una persona che mi ha fatto del male e voglio vendetta gentilmente mi può dare un po d'acqua santa ma magari non ve la dà quindi non si va in chiesa a rubare non si va da nessuna parte a rubare al limite si chiede vorrei dell'acqua santa da tenere in casa a protezione meglio una mezza verità che andare a rubare l'olio benedetto quindi l'olio consacrato l'olio benedetto troverete anche il video all'interno del mio canale youtube e quindi possiamo tenerlo sia sull'altare che ungere sia le candele che anche le tempie i polsi possiamo creare delle polvo di protezione con delle erbe particolari di protezione quindi polvo con erbe di salvia rosmarino menta che la mente esorcizzante eccetera creare delle polvo ritualizzarle con dei congiuri particolari e poi metterle mettere questa polvere questa polvo sia sull'altare che addosso a noi potete appoggiare anche sull'altare un semplicissimo chiodo un vecchio chiodo quindi un chiodo antico e arrugginito questo chiodo però va preso in un determinato posto quindi una casa antica una casa dei nostri antenati una casa infestata è così anche una casa infestata o addirittura è di enorme protezione il chiodo del cimitero che ripeto andate a seguirvi il video neanche il cimitero si va a rubare ma al cimitero ci sono delle regole da seguire quindi possiamo chiedendo i permessi specifici e lasciando le paghe specifiche prendere un chiodo antico arrugginito e poggiarlo sull'altare a protezione del nostro rituale magico un'altra cosa che ci può proteggere durante un rituale di attacco è la bambola di protezione una d'agida quella che nella magia voodoo viene chiamata d'agida quindi la bambolina voodoo che nella altre culture per esempio celtiche la bambola di protezione la d'agida di protezione viene chiamata eran quindi un eran di protezione che battezzeremo col nostro nome e chiederemo all'entità di scaricare eventuali colpi di ritorno sulla d'agida sulla bambola e non su di noi quindi questa d'agida rappresenta strega gremori quindi chiedo all'entità eventuali colpi di ritorno di scaricarli su questa d'agida su queste eran di protezione che mi rappresenta e i colpi di ritorno naturalmente li prenderà la bambola possiamo usare anche delle preghiere delle orazioni stiamo lavorando con gli arcangeli useremo delle preghiere di protezione rivolte all'arcangelo stiamo lavorando con la magia voodoo reciteremo alcuni salmi di protezione specifici per quel rituale quindi cerchiamo anche di saper scegliere che tipo di protezione usare se usare un mala se usare un rosario un amuleto che per noi è un importante portafortuna un chiodo arrugginito l'acqua l'acqua benedetta possiamo usare tutte queste cose o anche alcune importante che non lavoriamo per così dire scoperti quindi è sempre importante importantissimo proteggerci durante i rituali di attacco se volete che faccio un piccolo riassunto lo posso benissimo fare abbiamo iniziato il video dicendo che non tutte le entità sono delle entità benevole positive che a volte quando convochiamo un'entità non si presenta quell'entità ma se ne può presentare un'altra che è malevola che è ignorante e del basso astrale e quindi noi abbiamo bisogno di proteggerci la protezione parte dalla purificazione del piano di lavoro e personale con i bagni di purificazione quindi usiamo incensi specifici l'elemento aria candele di cera d'api nere elemento fuoco l'elemento acqua con l'agua florida usiamo sempre l'elemento terra con l'uovo il sale sorcizzato messo anche in sacchetti l'olio benedetto l'acqua benedetta quindi usiamo questo olio benedetto l'acqua santa oltre al sale sorcizzato e se non volete andare in chiesa e non volete prepararla da sola l'acqua santa la potete anche acquistare ci sono dei negozi come per esempio anche le edizioni paoline e altro che vendono anche l'acqua benedetta una delle più famose acqua benedetta è quella di Lourdes ma non c'è solo quella e potete anche andare a comprarla potete indossare un mala se state lavorando con la magia tibetana la magia buddista potete usare un rosario se state lavorando con un egregor cristiano e recitare delle preghiere se state lavorando con la magia udu potete anche utilizzare i salmi se state lavorando con la magia vudu potete utilizzare anche i veve del loa che chiamate quello il veve oltre a richiamare il loa è anche una protezione per voi potete usare la dagida di protezione e chiedere che eventuali colpi di ritorno vadano su questa bambola che è battezzata col vostro nome e che vi rappresenta le pietre di protezione come abbiamo detto poc'anzi importantissime quindi l'ossidiana i quarzi la tormalina ritualizzate purificate e utilizzate proprio per i rituali d'attacco alla fine del lavoro di attacco consiglio sempre di non usare la mano nuda ma di utilizzare i guanti per raccogliere tutto di fare i rituali di attacco fuori all'aperto anche se voi non operate in casa ma avete una stanza un luogo apposito un studio un ufficio chiamiamolo così dove andate proprio a lavorare vi consiglio i rituali di attacco di farli sempre fuori e le notti dove c'è la luna coperta dalla nebbia quindi dove c'è nebbia lavorare con la nebbia e anche una protezione durante i rituali di attacco come vedete non è difficile proteggersi e dopo che abbiamo chiuso e terminato il rituale con le parole magiche di chiusura adatta a quel rituale stesso andremo a fare un altro bagno di purificazione non domani mattina ma andiamo a farlo subito ci possiamo lavare con le saponette di ruta con la ruta sempre con i decotti particolari con la salvia con l'alloro con la menta col rosmarino che è un'erba di protezione un decotto con tutte queste erbe col sale esorcizzato un altro consiglio che vi posso dare è se sono per esempio le tre le quattro del mattino e il vostro rituale di attacco è terminato preferite dormire da soli in una stanza anche appoggiati sul divano ma non andate a dormire con vostra moglie o vostro marito per qualche ora cercate di dormire da soli e nel momento in cui avete terminato il rituale di attacco vi consiglio di bere l'acqua che avete posto sull'altare spero di essere stata chiara se avete domande potete iscrivervi al gruppo facebook è un gruppo segreto privato un gruppo privato strega gremori e fare lì all'interno potete porre tutte le domande che volete io vi lascio anche per oggi tutto abbiamo parlato del dei rituali proprio di protezione durante i rituali di attacco un abbraccio a tutti e buon lavoro da strega gremori